Quindi cerca di appiccicarti al muro senza perdere velocità E continua a girare quando devi droppare il pallet o lo droppi Poi dipende ovviamente dal kill, questa è la base Però su tutti, contro tutti Poi ovviamente c'è chi è l'antras Quindi devi stare tentando un dropparlo nel momento sbagliato, ecc Oh, oh, patong, patong, patong Magari la meth sì, ma devo comunque comprarmi tutti i serve ancora ragazzi Quindi non mi posso permettere di spendere al momento i coin Salve Sto molto zitto ragazzi, stappiato Quando gioco lo spirito ho bisogno di silenzio assoluto nel mio cervello Per sentire dove vanno i serve In più mi concentro tanto a vedere dove possono andare, cosa possono fare Presa Eh beh Io pure non so ancora lupare figurati È uno di quei giochi dove ci devi spendere Sì, devi spenderci proprio tanto tempo per imparare Ha comunque un Una skill gap da imparare Abbastanza elevata come gioco Salve Non so non facendo quel gen ma Tanto ormai Continuiamo sui vari chase Nice Bambamma ma ci sei ancora? Hai mangiato alla fine? Comunque mi fa troppo ridere come lo spirito prende per il buco del culo dei serve Vabbè 1500 secondo me non per forza Cioè devi contare furfante che io ho mille ore Non mi reputo il best killer chiaramente Però mi reputo onestamente onesto Cioè So quello che faccio e di cosa parlo Mettiamola così Adesso Abilità E andiamo aprendo un attimo Nice Alla fine è una questione di quanto sei anche avvezza ai videogiochi Infatti c'è chi ci mette di più e chi ci mette di più Beh quello sì ok Barbecue Dai toglimi il sa Ho capito che c'è Oh c'è qualcuno anche qui Nice Però la mia è più una questione di abitudine secondo me dei videogiochi Il fatto che da quando sono piccolo gioco da tanto Ramp on the Mac Buonasera Benvenuto Come stai caro? Che ci racconti di bello? Come è andata la tua giornata? Non ci provare a rubarmi Non rubatemi la battuta Maledetti Lo rompiamo qui per levarla intanto Non ha boil over Quindi mi posso droppare Ogni volta che Nightbot scrive Cazzo mi triggera fortissimo il lato dell'occhio Perché mi sembra che qualcuno scrivi In realtà è fucking Nightbot che scrive un messaggio lungo chilometrico Sarebbe potuto andare per il Dwight E trannellare e ucciderlo Perché lui è dead on hook Però era più semplice C'è il Cesare lui in questo caso Perché mi sta correndo addosso Non ci dovrebbe essere nessun pallet Quindi è bello chill Balance The Dard Niente di tutto ciò Boh puoi quittare Sono le 23 No dai Sto giocando bene Gli sto massacrando Fammi almeno vincere una partita Furfi Ma come è entrato? Eccolo lì Meno male che la musica Quando usi l'abilità dello spirito Si toglie Se ci fosse la musica di Chase Mentre giochi lo spirito Sarbbe infame Non si quitta mai lo spirito Sento che mi è andato di quittare Tra l'altro Pagliaccio Uè zio Qua è il popi popi Lo do a te ne Ma non c'è una arena Che rimetto uno scuro Intanto gli è morto Riuscirò ad arrivare No non ci arrivo con l'abilità Poi ci arrivo vicino Ma è anche ferito Si fa? Non si fa amico Comunque è abbastanza facile Baitare anche la gente così Anche se non si può fare più Il bait bait Di quando stai fermo Il fatto che sei così veloce Ha un pallet Puoi fare lo salt A meno che non corre dritto E magari non riesci a trovarlo Se continua a cercare di looparti Non ce la potrà mai fare Che cazzo è andato? Ma eccolo Se non correva Non l'avrei mai trovato Tra l'altro Se non fosse corso Se non avrebbe iniziato a correre Vabbè avete capito Dai L'italiano È il mio forte Insomma Comunque Non hanno chance Questi Non hanno proprio chance Li sto tirando Arattica Uno dopo l'altro Giù E salve Ciao Paolo Buonasera Come stai? Che ci racconta di bello Signor Paolo L'ho visto l'altro Ancora lì Sì Fregato Mi sto allenando Quei bot Ma secondo me Non sono fidabili Perché sembrano sapere Dove vai Anche da invisibile È forte Guarda che Furfi Quando sei in abilità Un surf Può capire dove sei Comunque Perché ti sente Sente da dove arriva L'audio A meno che non hai Una donna apposta Tutto bene Forse un po' più povero Come mai che è successo Paolo Cosa ci deve raccontare Questa build Dello spietro È sempre forte Comunque Sono volati Un po' di soldi Per la divisa Che divisa Ciao ghosti Ghostface Buonasera Tutti ghosti Se ci sono troppi ghosti Però Qua I ghosti Prenderanno Il sopravvento Dalla chat Prima o poi Allora Boom Tempo Di andare a fare Una cosa Chiamata Contest Del meme GG Intanto riscriviamo Grazie a tutti